A suo modo una rivoluzione. La Germania apprezzò il comando della flotta a schieramento rapido della Nato, rilevandolo dai Paesi Bassi. Il comandante olandese Jeanette Morang ha consegnato la bandiera dell'alleanza all'ammiraglio tedesco Thorsten Marx durante la cerimonia di consegna a Den Helder. La Standing NATO Maritime Group è una delle quattro forze di reazione immediata marittima navale permanente. Lo scopo è fornire alla Nato una capacità di risposta operativa rapida. Dopo l'invasione della Russia in Ucraina, la forza è stata attivata come task force congiunta ad altissima prontezza. Ora è dispiegata con il compito di dissuadere la Russia e rassicurare gli alleati. La coesione della Nato, ma anche la capacità di combattimento della guerra marittima dell'alleanza atlantica, è dimostrata. Nei momenti di bisogno, questa forza sarà lì per difendere i propri alleati. L'impegno sempre maggiore della Germania in campo internazionale con i propri soldati è una completa inversione di tendenza rispetto al secondo dopoguerra mondiale. Fino ad allora Berlino aveva sempre rifiutato di intervenire fuori dai propri confini nazionali.